Musica Ragazzi non siate tristi, i miei genitori mi hanno premesso che quest'inverno tornerò, quindi ci rivedremo presto. Agostino dai andiamo! Agostino muoviti! Musica Ragazzi oggi interroghiamo, ok? Vediamo un po'. Thomas, vieni dai. Ehi, i cellulari sono vietati. Prof, scusate, ma stavamo aspettando un messaggio da un nostro amico, d'Agostino. Lo posso leggere ad alta voce? Va bene, dai, solo per questa volta. Grazie. Va bene. Ciao. Purtroppo i miei non sono riusciti a liberarsi e quindi non verrò. Mi dispiace, ci tenevo davvero tanto. Vi avrei rivisti volentieri. Ero curioso di vedere i maggiori d'inverno per la prima volta, anche se so già che non sarà un gran bel vedere. Abbraccio tutti. Agostino. Ci teneva così tanto a tornare. Eh già, era curioso di vedere la costiera d'inverno. Ragazzi, perché non gli facciamo un video dei nostri paesaggi e glielo inviamo? Buona idea, così gli dimostriamo che è migliore anche bella d'inverno. Benissimo, così una volta tanto utilizzerete il cellulare per qualcosa di costruttivo. Grande prof! Ecco, vieni alla lavagna, dai. Thomas, a posto. Ma è la gioia. Ecco, ti sei salvata anche questa volta. Dio ha ascoltato le mie preghiere. Ragazzi, va bene per tutti se ci vediamo oggi alle 4 per il video? Sì, va bene. Allora ragazzi, siamo tutti? Sì, sì, sì. Da dove iniziamo? Dal mare? Sì, dal mare! Dai ragazzi, andiamo! Andiamo! Sì, dal mare! Ragazzi, buongiorno! Scusate, vi disturbo? Stiamo guardando il video da inviare ad Agostino. Ah, davvero? Lo voglio guardare anche io! Scusate! Grazie a tutti Ragazzi avete ragione, è veramente molto bella l'inverno, ci vediamo in estate Grazie a tutti Grazie a tutti